L'amministrazione comunale di Gela fa il punto sulla vertenza Eni dopo gli incontri degli ultimi giorni al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico. I tre mesi di ammortizzatori sociali fino ad aprile prossimo non erano l'obiettivo finale, ha detto il Sindaco Domenico Messionese, ma ci vogliono pure questi. Noi, ha continuato il primo cittadino, pretendiamo l'avvio dei cantieri così come stabilito nel protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014. L'obiettivo più importante sarà il 18 per poter vedere quali sono i cantieri che potranno partire a seguito delle autorizzazioni, i cantieri che il giorno tra il 22 e il 24 potranno essere meglio definiti con un altro tavolo dove ci sarà anche Eni proprio sul protocollo d'intesa e quindi poter dare finalmente le risposte al medio termine. Cosa altrettanto importante è l'attenzione per lo sviluppo di questo territorio con l'accordo di programma che in parallelo si sta sviluppando con Invitalia e con il Ministero dello Sviluppo Economico della Regione dove l'amministrazione è parte attiva e che può dare quelle risposte nel medio e lungo periodo che il territorio si aspetta. Intanto la prossima settimana riuniona la Regione siciliana alla presenza di Invitalia. Le decisioni politiche sul settore energetico sono delle decisioni che ha preso il Governo centrale, la chiusura quindi della raffineria è una decisione che ha preso il Governo centrale e quindi come tale il Governo centrale deve dare le risposte. Ecco, una delle risposte più efficaci che ha potuto dare in questi primi due incontri è la presenza massiccia della parte politica, nel primo caso con l'ex sottosegretario dello Sviluppo Economico, la dottoressa Vicari, successivamente con il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, la dottoressa Bellanova. Quindi per noi questa è una risposta politica seria. Ecco, la volontà di farsi carico delle responsabilità e di agire nel merito per risolvere i problemi legati ai ritardi autorizzativi che poi hanno portato alla non realizzazione dei cantieri e soprattutto per la volontà di accelerare su quello che sono invece le prospettive del lavoro in alternativa a quelle che invece sarebbero state o dovrebbero essere le tutele al reddito con gli ammortizzatori sociali. Ecco, c'è la volontà di tutti a quel tavolo di non vedere gli ammortizzatori sociali come la soluzione del territorio e c'è la volontà di tutti di accelerare al massimo per redigere questo progetto di riqualificazione industriale capiente con la capienza finanziaria per poter realizzare gli investimenti infrastrutturali e lavorativi con fondi privati e pubblici.